Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Sono Vince, oggi parliamo di loro, sono delle cuffie veramente sorprendenti, a basso costo, ma ragazzi sono veramente il top. Come sapete io uso Airpods Pro, ma ragazzi queste per il costo che hanno devo dire che sono veramente molto interessanti. Intanto guardate come si presentano, io amo particolarmente questa cosa, tutta la confezione, diciamo tutto il case trasparente che lascia intravedere tutta la tecnologia ed è così anche per le cuffie. Guardate qui, vi faccio vedere, poi anche in B-roll un pochino meglio il tutto, veramente molto molto belle. Stanno nell'orecchio veramente in maniera perfetta, vi faccio vedere, ecco qui, vedete un attimino questo e come stanno appunto almeno nel mio padiglione auricolare, quindi nel mio orecchio. Ok, quindi mettetevi comodi perché vi parlerò di queste cuffie ad un ottimo prezzo con una qualità veramente pazzesca. Andiamo a vedere un po' l'unboxing e poi ne parliamo. Eccoci qua ragazzi, abbiamo le nostre soundpits, qui abbiamo la marca, chiaramente vediamo appunto la, sono il modello Air 4 Pro. Il processore che vedete qui è uno Snapdragon Sound, chiaramente abbiamo tutta la parte davanti della preview, diciamo di come saranno le nostre cuffie. Vedete che nel lato abbiamo Hear Your Imagination e chiaramente dietro abbiamo un po' tutte le specifiche che andiamo quindi a vedere. Bluetooth 5.3, lavorano a una massima distanza di 10 metri, abbiamo circa 6 ore e mezzo di ascolto, 26 ore con il caricatore, perché il caricatore, il charging, perché questa custodia ovviamente fa anche da caricatore. La capacità della batteria è di 35 mAh e invece di 330 mAh per quanto riguarda la base di ricarica, invece 35 mAh ovviamente è per la singola cuffia. Ok, andiamo quindi ad aprirle, io sono molto curioso di vederle dal vivo, le ho un attimino aperte ma non le ho ancora provate, andiamo quindi a vederlo assieme. Qui vedete 13 mm il Dynamic Driver, come vi dicevo 26 ore di ascolto e la cancellazione ovviamente del rumore. Eccole qua, andiamo quindi a vedere cosa esce nella custodia, probabilmente qui sotto c'è qualcos'altro e andiamo quindi a vedere. Ok, il primo che andiamo a scoprire è il cavo di ricarica USB di tipo C e dall'altra parte probabilmente abbiamo gli adattatori, vedete altri piccoli adattatori per andare a cambiare quindi la parte auricolare delle nostre cuffie. Andiamo un attimino da parte, ecco qua vengono date con questa parte in plastica che andiamo ovviamente subito a togliere, ecco qui, et voilà. Ed eccole qua ragazzi, guardate in questa custodia così trasparente quanto sono belline. Vi faccio vedere un pochino meglio da questo lato, vedete la parte che rimane sotto, come vi dicevo per l'ingresso USB-C. Abbiamo anche qui la parte Hear Your Imagination, quindi la parte, il motto diciamo così, di Sound Pit che lo troviamo, vedete, scritto anche qui in questa parte. Vedete come si vanno ad aprire, chiaramente in questo modo ed eccole qui, ne andiamo a prendere una ed eccola qua ragazzi, guardate quanto è bella, almeno personalmente mi piacciono veramente molto. Guardate qui come sono belle in questa colorazione, se possiamo dire così, trasparente. Ovviamente tanti altri colori che trovate nei link qui sotto in descrizione. Io direi che adesso le mettiamo un po' sotto carica, poi le testiamo e ne parliamo. Entriamo a vedere l'applicazione. In questo piccolo tutorial che vi faccio l'ho fatto con un telefonino Android, solo perché io posseggo due telefoni, sia iOS che Android, uno è per il lavoro, questo è il mio personale. Ho deciso di utilizzare nel mio telefono di lavoro queste cuffie perché mi chiamano veramente tanto e quindi quando vado a rispondere alle chiamate lo faccio veramente in un secondo. E basta solamente indossarla, anche magari solo una, una volta che il tutto si è connesso si risponde in automatico e si parla veramente con un audio molto molto cristallino. Veramente approvatissima. Andiamo a vedere com'è l'applicazione. Allora andiamo a vedere un po' com'è l'applicazione. Intanto scarichiamo sul Play Store ma anche sull'Apple Store l'applicazione Sound Pizze. Adesso attendiamo che il tutto si andrà a collegare. Abbiamo qui le nostre cuffie, le andiamo a togliere dalla custodia, le mettiamo fuori e la chiudiamo. Vediamo che loro vanno ovviamente in ricerca e guardate che appunto sono state trovate. Cuffia sinistra, cuffia destra, a questo punto sono proprio qui. E ci dice anche il livello di carica al 100% sia per quella di sinistra che per quella di destra. Qui in alto Sound Pizze Air 4 Pro che ovviamente è il modello. Cosa succede se andiamo a cliccare a sinistra il nostro account? Possiamo provare ad aggiornare il firmware. Ci sono varie impostazioni. Ovviamente si può mettere la lingua che desideriamo e anche disconnetterle. Andiamo a vedere se c'è un aggiornamento firmware da fare. Mi dice che l'hardware è già l'ultima versione quindi per noi va benissimo così. E questa è la prima parte della schermata. Se noi clicchiamo qui sulle tre lineette qui in basso possiamo andare a gestire il controllo del volume. Quindi già qui possiamo anche utilizzare questo controllo per dire se abbassare oppure abbassare il volume. In questo modo possiamo andare ad attivare o disattivare l'equalizzatore adattivo. Andiamo a controllare se vogliamo le istruzioni per farlo. Ci dice che appunto ci vuole circa un minuto per completare l'intero test e quindi andate magari a fare questa cosa per avere un'equalizzazione ottimale. Ovviamente possiamo scegliere tra degli equalizzatori preimpostati oppure personalizzabili. Se andiamo su personalizzato e preimpostato e clicchiamo proprio qui da questa parte andiamo in varie preimpostazioni. Abbiamo il sound pitch classico, abbiamo l'aumento dei bassi, il riduzione dei bassi, elettronico, rock and roll, popolo, miglioramento degli alti, musica classica e pop. Ok andate a scegliere un po' quello che più vi piace. Io per il mio gusto assolutamente personale sto utilizzando il sound pitch classico. Ok quindi se non vi va poi potete anche andare a mettere voi tutto quello che è la parte degli equalizzatori. Io avevo provato ma non sono ferrato in queste cose quindi vado con il mio preimpostato e sono sicuro. Ragazzi la riduzione del rumore è veramente molto molto buona, la potete scegliere vedete in ANC oppure metterla normale e in modalità trasparenza. Lo stesso potete fare se prendete la vostra cuffia di sinistra e tenete spinto sulla S e cambierà la vostra modalità di trasparenza, insomma la modalità di riduzione del rumore. 3 abbiamo la modalità di gioco che se attivata va a ridurre la latenza, ve lo dico perché l'ho letto ma non ho potuto provarla in quanto non gioco con le cuffie. Abbiamo la possibilità di disabilitare tutte le funzioni dei tasti a sfioramento qualora voi non volesse appunto attivare le funzioni dei tasti ma fare tutto magari da un'applicazione e il rilevamento oppure disattivare il rilevamento nell'orecchio qualora voi inserite oppure no la cuffia. La cosa che ho trovato veramente molto comoda perché magari mi squilla il telefono, queste cuffie le uso molto per lavoro, mi chiamano spesso dal telefono quindi le ho collegate a loro. Ogni volta che le vado a togliere dalla loro custodia la metto nell'orecchio intanto risponde in automatico e questa è una cosa che mi piace veramente molto. Andando appunto nella home ritorniamo dove eravamo prima oppure nel negozio chiaramente se volete andare a prendere dei prodotti da altre parti. Ok quindi questo è un po' quello che sono queste cuffie ma vi devo dire la verità mi sto trovando veramente molto molto bene. E ragazzi una menzione particolare va fatta per la riduzione del rumore, queste cuffie al loro interno hanno la riduzione del rumore e devo dire che sono veramente molto molto buone. Io l'ho usata al mare, magari state vedendo una piccola immagine proprio perché volevo rilassarmi e ragazzi appena le indossate wow spariscono veramente tutti i suoni. Un'ottima riduzione del rumore quindi se state valutando l'acquisto di queste cuffie e volete sapere come funziona la riduzione del rumore beh ragazzi ve lo garantisco è veramente ottima. Io ve lo ridico ancora uso le Airpods Pro ma queste ragazzi fanno veramente il loro lavoro. Per quanto riguarda invece il suono sinceramente è un po' inutile farvelo sentire dal microfono qui perché non si capirebbe nulla. Vedo varie recensioni che lo fanno ma ragazzi lascia un po' il tempo che trova o vi fidate un po' di quello che vi dico oppure fate un po' quello che volete ma per me queste cuffie suonano veramente bene. Potete come avete visto equalizzarle al modo migliore come volete io le uso nell'equalizzatore base predefinito che hanno loro e a me l'audio piace veramente tanto. Vi consiglio comunque di andare nel link qui sotto in descrizione se volete acquistare queste cuffie perché chiederò un coupon sconto proprio per voi ma tanto queste sono cuffie che vanno in sconto molto spesso. In questo momento sto registrando il video il costo è di 59 euro le portate a casa ragazzi veramente delle cuffie pazzesche. Per questo video direi che comunque è tutto spero di avervi dato un'alternativa come cuffie buona per voi vi ringrazio molto per essere stati con me fino alla fine di questo video lasciatemi un commento qui sotto e noi ci vediamo al prossimo ciao ragazzi.